Chiara Mason è sicuramente una delle principali protagoniste di questo bello avvio di stagione del volley Soverato, protagonista in entrambe le vittorie. Adesso si va a Sassuolo, una partita sicuramente difficile su un campo ostico, ma il Soverato è partito bene, quindi ci sono tanti aspetti che lasciano ben sperare per il futuro. Sì, siamo assolutamente pronte anche per questa partita, ci stiamo impegnando molto durante la settimana per prepararla al meglio. Queste prime due partite sono andate bene, ce le abbiamo messe a tutta e nonostante i bassi comunque sono state partite molto altalenanti, soprattutto l'ultima, però noi ci abbiamo sempre creduto, abbiamo sempre dato il massimo e siamo riusciti a conquistarci queste due partite. Per quanto riguarda le tue prestazioni personali, sappiamo che sei una delle più giovani del gruppo, ti aspettavi questo avvio così importante di stagione anche per quanto riguarda le tue prestazioni, non solo per quelle della squadra. Coachella Napolitana ha puntato subito su di te, possiamo dire che hai dato subito delle risposte importanti in chiave futura anche. Sono molto contenta di quello che sono riuscita a dimostrare finora, sono consapevole che sono solamente le prime due partite quindi c'è ancora un lungo cammino e sono pronta a migliorarmi, sono pronta a dare il massimo per la mia squadra, ad aiutarci nei momenti di difficoltà e comunque a dare il mio massimo. Antonio Mariano, scoutman del Volley Soverato, presenta qui ai microfoni di S1 la prossima partita trasferta non facile a Sassuolo, una squadra che già avete affrontato lo scorso campionato, il Soverato ovviamente vuole proseguire la sua corsa dopo le prime due vittorie in campionato, affronterà una squadra galvanizzata dopo la vittoria esterna di domenica scorsa, ma il Soverato ha tante carte da giocarsi. Proprio perché vengono da questa vittoria Sassuolo vorrà fare bene in casa, visto che la prima partita contro Marignano l'ha persa 3-1 anche giocando discretamente bene, quindi sappiamo che andiamo ad affrontare una squadra che davanti ai propri tifosi vuole fare bene. Sassuolo è una squadra che gioca una buona palla a volo, alterna molto i posti 4 con Gezzi, Mambelli e la straniera Svetnic e quindi da pochi punti di riferimento. Poi con l'opposto a Maloual che sta facendo molto bene, è una emergente in A2, una ragazza del 2002 se non erro, quindi è una squadra che vorrà fare bene per non dimenticare la palleggiatrice Pincelato che è una palleggiatrice molto di livello. Quindi dobbiamo andare lì con la massima attenzione, dobbiamo andare con la consapevolezza che possiamo fare bene, però alla fine sarà il campo a parlare, speriamo che parla per noi e quindi andiamo ad affrontare questa partita per uscire vittoriosi, speriamo. In qualità di addetto alle statistiche, allora analizziamo queste prime due partite del Valle Soverato che sono coincise con due vittorie, la prima a Martignacco e la seconda in casa con Olbia. Sono state due vittorie molto importanti perché la prima avviene in un campo molto difficile dove tante squadre che andranno a giocare a Martignacco soffriranno perché è un campo difficile da giocare e poi con l'assenza nostra della straniera che ancora non poteva scendere in campo e abbiamo fatto veramente una partita da incorniciare. Ci stava a perdere un set dopo due sette vinti in quel modo perché ci stava anche la reazione di Martignacco e quindi poi le ragazze veramente danno tutto, abbiamo visto anche qua in casa Parascopa contro Olbia perché questa è una squadra che non molla mai, è una squadra che non molla mai nemmeno in allenamento, è una squadra che ogni allenamento esce sudata, che lotta su ogni palla e che davanti alle difficoltà non si ferma mai, ha sempre voglia di lavorare e questo è molto importante. A livello statistico che c'è da dire? Stiamo lavorando bene anche se sappiamo che c'è molto da migliorare, al momento il nostro punto di forza penso che sia chiaro per tutti è la ricezione perché siamo usciti contro la partita con Olbia con zero ace subiti e con percentuali veramente importanti e sappiamo che anche lì c'è qualcosina da migliorare ma abbiamo anche altro da lavorare e che stiamo già migliorati negli allenamenti in questa settimana e andremo a provare contro Sassuolo quello che abbiamo lavorato questa settimana. Sono molto fiducioso che anche a Sassuolo faremo una buona prestazione e speriamo che alla fine riusciamo a esprimere il miglior gioco possibile.